Benvenuti sul mio canale, io sono Nicola, oggi vi porto a Chioggia, vi faccio vedere un po' di barche affondate che ci sono qui nella mia zona, sono tanti anni che sono sott'acqua e probabilmente chi ci aveva prima non interessava più e insomma l'hanno lasciata andare, adesso sono sotto, sono tanti anni che sono sott'acqua e sono ancora lì, qualcuna si è distrutta del tutto, qualcuna è ancora diciamo un po' così così, però sempre sott'acqua sono. Adesso vi faccio vedere un pochino queste barche visto che sono venuto a fare un giro qui a Chioggia. Guardate qui c'è una barca abbandonata, è davvero un peccato anche perché inquina la nostra acqua, il nostro mare, qui sotto il ponte c'è un disastro di legna, di plastica, polistirolo, c'è di tutto, una vergogna proprio. Anche qui ancora barche affondate, è davvero un peccato, qui addirittura ce ne sono due, una sopra l'altra. Siamo qui a Chioggia, è davvero un peccato vedere queste barche affondate così, anche perché poi vanno a inquinare, i vecchi proprietari se ne fregano. Qui abbiamo ancora un'altra barca affondata, questa è una semigabinata, sono tanti anni che sono qui queste barche, nessuno le recupera, nessuno pulisce. E anche qui un'altra barca ancora, questa era una barca vela, aveva anche il motore su una volta, mi ricordo che questa barca funzionava. E niente, l'hanno lasciato andare sotto acqua, nessuno si è preso più cura. Qui in fianco ce n'è ancora un'altra picolina, deve essere stato un barchino questo qua, se ne vede un'altra. E niente, qui è diventato tutto così, è diventato un po' il cimitero delle barche abbandonate, è davvero un peccato. Sono qui a Chioggia. Questi cassoni che vedete servono per fare l'allevamento delle moleche, praticamente quando è un periodo si prendono i granchi nella laguna, si mettono dentro i cassoni, e poi i cassoni vanno lasciati in acqua, e dopo un certo periodo fanno la muta, diciamo, quando cambiano il guscio diventano moleche. Questa che vedete qui è la scuola di Cavanis, di Chioggia. Queste sono le barche che ci sono qui a Chioggia, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci sono iscritti al mio canale, siamo arrivati più di 100, volevo ringraziarvi tutti quanti, continuate a seguirmi, se anche questo video vi è piaciuto commentate, mettete like, iscrivetevi al canale, così da poter diventare sempre un gruppo sempre più grande, vi ricordo di attivare la campanellina, così quando pubblico nuovi video vi arriverà la notifica, ci vediamo in un nuovo video.